L'anno scorso Ilva puntò sull'orgoglio dell'azienda che celebrava i suoi 50 anni e sui prodotti. Quest'anno l'ufficio comunicazione cambia registro e guarda i risultati raggiunti alle promesse mantenute. Il messaggio che sarà inviato attraverso la nuova campagna, fatta di tre spot mandati sulle emittenti televisive, sulle radio e sui giornali locali per un periodo di tre settimane, vuole dimostrare l'impegno dell'azienda. La nuova campagna di comunicazione Ilva ha l'obiettivo di trasmettere alla città di Taranto l'impegno dello stabilimento profuso dai suoi 11.500 dipendenti in tema di sicurezza sul lavoro e di ecosostenibilità ambientale. Ilva sottolinea che non si tratta di propaganda ma ci sono concreti dati di fatto che dimostrano i risultati raggiunti e i miglioramenti fatti sia nel campo della sicurezza che della compatibilità ambientale. Qui, ammette tuttavia l'Ilva, c'è ancora molto da fare per ottenere risultati ancora migliori mentre è innegabile che la sicurezza in fabbrica è aumentata di molto tanto che gli incidenti gravi sono fortemente diminuiti. Resta ancora aperto il tema del dialogo con la città sul quale Riva deve fare uno sforzo e sul tema della integrazione con il territorio che secondo molti settori della società tarantina manca del tutto. Ilva deve individuare le iniziative più utili per stabilire un rapporto meno conflittuale con i tarantini a prescindere dal tema ambientale e della salute collettiva.